Fu un uomo di coraggio, determinazione, intraprendenza e carisma. Era un pianificatore, un brillante stratega militare ed era assolutamente leale al re, all'Inghilterra e alla Giamaica. A differenza di tanti altri appartenenti ai fratelli della costa, era flessibile e capace di adattarsi alle circostanze. Fu in grado di vedere che il futuro della Giamaica non si sarebbe basato sulla razzia e sul saccheggio, ma sul pacifico commercio. Fu anche un bravo politico, capace di mantenere il suo mandato più a lungo di qualsiasi altro governatore del suo tempo. Caro Danilo, con queste parole dello storico Graham Thomas, ti introduco il personaggio di cui parleremo oggi, Henry Morgan. Il personaggio che racchiude un po' tutta la nostra stagione, perché è sia un corsaro, abbiamo aperto la stagione con i corsari, è sia un bucaniere, ne abbiamo parlato di vari bucaniere, e sia un personaggio delle storie di Salgari, che abbiamo appena finito il mese dedicato a Salgari. Quindi ecco, l'ira chiude un po' tutti. Che ne pensi? Che ne pensi? Beh, appena iniziato, in realtà, quando hai detto brillante stratega, ho detto ma Flavio parla di me, perché mi presenta così? No, invece parlavamo di Henry Morgan. Effettivamente hai ragione su il riassunto un po' della season 3 attraverso questo personaggio. Diciamo che propriamente sulla scia, un po' come una nave, e no, come a noi piace questa immagine marinaresca, abbiamo seguito la scia e dal Salgari Month ci siamo spostati, reduci dal Salgari Month, direttamente a Henry Morgan, che è ancora un po' legato a Salgari, perché, come hai detto tu, è un personaggio salgariano, vi ricorderete, è il braccio destro del corsaro nero nella saga delle Antille. Noi, peraltro, siamo reduci dal Salgari Month, ma reduci proprio faticosamente, perché abbiamo fatto arrabbiare tutta la comunità dei fan di Salgari, che noi pensavamo in realtà apprezzasse il fatto che abbiamo parlato del maestro troppo spesso dimenticato. Invece, mai più mesi tematici su autori. Da ora in poi torniamo ai videogiochi, come mesi tematici, caro Flavio. E' anche interessante il rapporto fra Morgan e l'Italia, perché Henry Morgan è un personaggio che ha affascinato molto l'immaginario italiano, cioè è quasi un pirata che in Italia è citato più di barba nera. Non soltanto Salgari, ovviamente, lo traspone in un suo romanzo. Anche Sabatini, altro autore italiano di cui parleremo, ne fa un personaggio dei suoi romanzi. Poi è usato anche come soprannome per indicare il pirata, soprannome che è stato affibbiato a Francesco Morini, classe 44 stopper della Juventus, ma anche più, diciamo, in tema più vicino a noi, Morgan, che succede? Dov'è il corsario nero? Abbiamo fatto noi un meme su questo. Il cantante Morgan prende il nome proprio da Henry Morgan. Perché, mi chiedo questo prima della sigla, perché Henry Morgan piace così tanto agli italiani? Secondo me, diciamo, l'Italia ha questa... Se pensiamo alla figura di Morgan, un po' come ce l'hai descritta, questo ladrone che poi si è dato alla politica, rimanendo anche in carica parecchi anni, ecco, forse l'italiano rivede in questo qualcosa di molto familiare. No, 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 no. No, era per dire... Tutte illazioni, tutte illazioni. Tutte illazioni. Lanciamo allora la sigla. Come hai detto giustamente con Henry Morgan, parliamo di un pirata famosissimo, uno di quelli che praticamente, assieme a barba nera e a kid pochi altri appaiono sempre in tutte le storie di pirati che hanno un minimo di componente storica e come hai giustamente citato abbiamo anche appena concluso il tema il mese tematico dedicato a salgari che nella saga del corsario nero ha fatto di morgan proprio uno dei personaggi principali no anche se nel raccontare la sua storia l'autore e come abbiamo anche detto durante quegli episodi lì si è preso moltissime licenze poetiche ora vediamo un po invece chi era il vero henry morgan è innanzitutto lui nacque in galles attorno al 1635 e come per molti altri suoi diciamo colleghi non si sa molto della sua gioventù anche se nelle sue stesse parole lui descrisse una volta la sua infanzia dicendo che era sempre stato più portato per la picca che sa proprio l'arma la lancia per infizza la gente piuttosto che per i libri quindi insomma ecco questo è già un background culturale di base non si sa bene poi come lui abbia raggiunto i caraibi ci sono varie teorie la più accreditata al momento è che facesse parte di una spedizione contro gli spagnoli una spedizione corsara lanciata da oliver cromwell in persona nel 1654 ricordiamo cromwell all'epoca era il reggente dell'inghilterra che non era più un regno proprio dopo la rivoluzione di cromwell dopo la conquista della giamaica da parte degli inglesi nel 1655 conquista di cui probabilmente morgan faceva parte come soldato marinaio però ecco qui morgan dopo questa dopo l'acquisizione della giamaica si mette in proprio e volendo approfittare un po delle tante occasioni offerte dai caraibi dell'epoca sappiamo che quello era proprio il momento giusto per diventare ricchi se avevi un po di pelo sullo stomaco insomma comunque non abbiamo ancora dati certi come come ho detto ma c'è la possibilità appunto che attorno al 1660 morgan fosse al seguito di un'altra flotta corsara stavolta comandata dall'ammiraglio christopher minks e che con loro si dedicasse un po a sì e saccheggi danni insomma acchiappare bastimenti spagnoli eccetera è probabile che qui si e se infatti ecco chi non ha mai è probabile che qui morgan fece anche un po di carriera arrivando a diventare uno dei comandanti della flotta poi durante tutti gli anni sessanta del seicento è un po di retrotera cult storico insomma i corsari erano considerati un po un male necessario per la giamaica inglese non erano ben visti però portavano un sacco di soldi sull'isola quindi no sappiamo che se non sei ben visto però ci guadagna parecchio e facciamo andiamo avanti così quindi poi inoltre indebolivano gli spagnoli che erano i rivali dell'equilterra soprattutto lì in giamaica era diventata la roccaforte inglese nel nello spanish main morgan armato della sua brava lettera di corsa raggiunge finalmente anche sulle cronache esplicite port royal capitale della giamaica e la raggiunge assieme a un tale giaco fachman che nome suona strano ma vabbè ma soprattutto soprattutto a un certo john morris che oltre a essere un corsaro di fama era anche un bucaniere e ne ricordiamo il bucaniere in quella comunità di cacciatori e cuochi praticamente che a un certo punto decisero di dedicarsi alla pirateria e che facevano base a tortuga erano soprattutto francesi ma c'erano ma c'erano anche molti olandesi e anche diversi inglesi tra di loro e pochissimi spagnoli uno due perché i bucanieri ce l'avevano a morte con gli spagnoli questo si sa comunque sappiamo quindi che morgan se la faceva coi bucanieri e probabilmente era uno di loro il governatore della giamaica era un tale thomas modiford all'epoca ed era piuttosto impressionato dai successi di questa allegra brigata di morgan e compagni e permese loro di stabilirsi sull'isola tanto che morgan si sposò pure il suo matrimonio fu matrimonio politico e qui già vediamo che il personaggio era abbastanza avvezzo a muoversi in questo questo settore pensa comunque sua moglie era la figlia del vice governatore che permise appunto al nostro e ave morgan di fare una piccola carriera politica già all'inizio della del suo percorso la donna mary morgan non si chiamava morgan dopo essersi sposata con rima si chiamava organa perché era anche sua cugina di primo grado però evito facili battute rispetto a questo andiamo a parlare della si è che andiamo a parlare della carriera pilatesca che è meglio quindi la svolta per morgan arriva nel 1667 perché il conflitto tra infinito tra inghilterra e spagna si inasprisce il governatore della giamaica abbiamo detto col tale modiford consegna una lettera di corsa a morgan e gli conferisce il rango di ammiraglio e quindi lo spedisce consoli spagnoli ora morgan evidentemente si era già fatto una certa fama attorno perché in meno di un anno riesce a radunare una flotta di ben dodici navi e 700 uomini praticamente un terzo di questi tra l'altro erano bucanieri di tortuga quindi sappiamo benissimo insomma chi erano i migliori amici di morgan già in questo periodo e la lettera di corsa ricevuta consentiva i saccheggi per le navi contro le navi ma non consentiva i saccheggi a terra quindi non permetteva le invasioni di città e avamposti ora a meno che la clausola diceva che a meno che non ci fossero evidenze che la spagna si preparasse un'invasione ok ora morgan poteva quindi attaccare le navi spagnole ma non poteva attaccare a terra però lui sapeva bene che i bottini ricchi si facevano saccheggiando le città abbiamo abbiamo parlato della storia dell'olonese abbiamo parlato della storia di de graf tutti i personaggi che hanno fatto i soldoni conquistando città intera insomma e morgan non voleva essere da meno quindi quindi lui che fa decide di attaccare un insediamento a cuba lui voleva attaccare avana ma forse aveva capito che era un po esagerata come pretesa quindi ripiega su questo puerto principe e per farlo visto che non poteva legalmente si inventò che gli spagnoli stavano preparando un'invasione nella giamaica proprio da lì da puerto principe quindi diciamo che aveva creato un casus belli fingendo che loro stessero per attaccare non sai stesse storie di guerre preventive cose che comunque ultimamente non si fanno più se non sbaglio no lei avrà detto la spagna armi di distruzione di massa cioè roba poco antica di secoli no meno male che il mondo poi si è si è evoluto si è civilizzato meno male meno male comunque il bottino ecco questo principe non era un città particolarmente opolenta il bottino non fu più dei più ricchi e morgan dovette pure sedare delle liti a bordo fra francesi e inglesi che sai quando si devono quando i pirati si devono distribuire no dividere i bottini certe volte finiscono a cortellare e finì a cortellare in questo caso perché un inglese ammazzò le spalle un francese e morgan dovette mettersi in mezzo perché altrimenti sarebbe stato dove un macello letteralmente però ecco tutti questi problemi non gli impedirono di lanciare un nuovo attacco stavolta a puerto bello a panama che era in realtà la terza più grande città delle colonie spagnole quindi bel bel target in questo caso la missione tra l'altro era aveva altre difficoltà perché porto bello era protetta da ben tre fortezze e i bucanieri di tortuga dopo quel battibecco a coltellate di cui ho parlato decisero di mollare morgan e tornarsene a tortuga lui però non si perse d'animo nonostante i tanti problemi raggiunge porto bello con i suoi uomini a bordo di 23 cano invece che delle proprie navi quindi fa una specie di operazione stealth infiltrando gli uomini nelle fortezze e conquista le fortezze una una e alla fine conquista anche la città durante questa battaglia si racconta anzi non si racconta ma il famoso x himling racconta che morgan utilizzò preti e suore catturati come scudi umani contro le fucilate degli spagnoli e questo fu il motivo per cui morgan denunciò x himling quando uscì questo libro perché non si la cosa infatti che fa ridere non è tanto che expirati sanguinari sono impelagati in beche processuali quanto il fatto che morgan vinse pure la causa costringendo il siming a rimuovere quel passo dal libro comunque si capito sì io ho conquistato ucciso e torturato ma non usando i preti come scudono comunque ecco alla fine morgan tenne porto bello a panama per un mese ovviamente alla maniera classica dei bucanieri quindi depredando tutto il possibile torturando stuprando massacrando spesso e volentieri e chiedendo anche un ingente riscatto in cambio della città stessa ora la missione terminò con un successo clamoroso ovviamente per morgan è un po meno per i poveri abitanti di portobello ma i pirati e i loro soci si arricchirono tutti morgan in primis i suoi marinai pure il governatore della giamaica quel modiford che fu piuttosto felice di sorvolare sul fatto che morgan in teoria non poteva attaccare le città e insomma il nostro ammiraglio bucaniere in inghilterra inizia già essere considerato un eroe nazionale praticamente pensa te pensa te e qua qua già potrei fermarti io e perché siamo arrivati già un punto importante della biografia del nostro morgan tu giustamente hai detto che questo è un personaggio che per le sue imprese non soltanto era celebre fra i contemporanei ma è diventato poi un personaggio essenziale ogni qual volta si deve ambientare un romanzo un film in epoca piratesca e se si vuole essere appunto storicamente accurati e si vuole scegliere un personaggio di spicco si prende morgan e io ti dirò che però non soltanto se si vuole essere storicamente accurati si può scegliere morgan per parlare narrare di storie di pirati perché morgan è anche stato reinterpretato in chiave fantasy in alcuni esempi che noi abbiamo dal mondo dell'arte quindi abbiamo anche un henry morgan che ispira vicende più fantastiche del classico fantasy piratesco che noi in più occasioni abbiamo scandagliato qua e là nelle nostre puntate ovviamente il primo riferimento che facciamo che abbiamo citato spesso è proprio one piece noi sappiamo come oda abbia questo divertimento nel prendere nomi dalle vere storie di pirati anche soprattutto della golden age ma non solo affibiandoli ai propri personaggi che però non è che siano poi interpretazioni o parodie del personaggio storico reale soltanto oda fa delle citazioni e anche il nome morgan è stato preso e dato a uno dei suoi personaggi forse con qualche similitudine forse qualcosina c'è perché anche il morgan di one piece si trova a governare un territorio e questo poi lo vedremo per l'henry morgan storico più avanti quando flavio ci racconterà stiamo parlando di morgan mano da ascia appunto ispirato al nostro henry morgan per quanto riguarda il nome è un lui diciamo lavora nella marina e in gioventù ha già è già protagonista di una prima importante impresa più che altro vicenda diciamo più che impresa perché lui si scontra contro il pirata curo un pirata astuto sadico e che indossa bener fracche un po come il gastone di petrolini c'è un personaggio molto pittoresco curo ovviamente massacra tutti i marin tutti i colleghi del nostro morgan però il suo scopo non è realmente soltanto vincere questa pugna contro la marina ma lui vuole smettere di essere perseguitato dalla marina allora cosa fa ipnotizza morgan e gli fa credere di averlo arrestato cioè fa credere a morgan di aver arrestato il vero curo quando in realtà morgan ha messo le mani solo sul carpentiere della nave pirata in questo modo il vero curo può andarsene altrove e scappare sapendo che la marina crede di averlo catturato morgan crede di aver messo le mani su curo che invece è solo un carpentiere morgan è stato in questo senso ipnotizzato e viene inizia però così la sua carriera viene nominato capitano e inizia la sua ascesa certo la battaglia con curo lo ha lasciato particolarmente devastato fisicamente tant'è che è costretto a ricorrere a delle protesi steampunk a un'ascia al posto della mano una mandibola di ferro e viene da allora chiamato morgan mano d'ascia io mi sarei fatto chiamare morgan mandibola di ferro più bello più marro però cosa diceva stamano può essere ascia non ci avevo pensato è vero era interessante anche questa citazione di brega morgan diventa si trova poi a governare shell town e anche lui non dà proprio segni di essere una persona pacifica e qua che governa shell town con suo figlio che poi userà come scudo umano però davvero non come nella calumnia di eschemelina morgan storico qua lui usa davvero gli scudi umani questo morgan di oda e viene ovviamente poi bastonato sia da rufi che da zoro che appunto mostrano il loro livello di potenza massacrando morgan abbastanza facilmente tra l'altro se non vado errato è la prima volta durante lo scontro con morgan che zoro si rivolge a rufi chiamandolo capitano ora vedrai che anche la comunità di oda ci odierà come quella di salgari e pian piano insomma faremo man basta ci facciamo odiare da tutti esattamente ma c'è anche un altro henry morgan fantasy che ci viene invece dalla saga di pirati dei caraibi non soltanto perché noi sappiamo che morgan è anche nella lordi pirati dei caraibi della disney un pilastro della pirateria e è uno degli autori infatti in questa lord del codice dei pirati assieme al pirata bartolomeo ma noi abbiamo detto anche in altre puntate che pirati dei caraibi ha in realtà una lord molto complessa una sorta di universo espanso se si mettono insieme anche tutti i fumetti i romanzi che sono usciti a tema effettivamente questi queste storie di questo universo espanso comunque canonico ufficiale approfondiscono molto la storia di henry morgan rendendola molto inquietante e molto fantasy innanzitutto ci viene detto che morgan è il morgan storico quindi proprio henry morgan nato quando e dove è nato morgan saccheggiatore che diciamo guida questi saccheggi a santiago de cuba campece poi a truilio granada poi attacca maracaibo qui conquista gibraltar quindi diciamo poi ora anche quando flavio andrà avanti a spiegarci ci sono delle aderenze fra l'herry morgan saccheggiatore e le imprese di questo henry morgan dei pirati dei caraibi quindi gli stessi saccheggi la stessa nomina a governatore cambia però cambiano le cose quando alla data di morte del morgan storico il morgan della lordi pirati dei caraibi finge in realtà la sua morte e si ritira in un laboratorio segreto dove studia alchimia c'è questa variazione quindi grande condottiero grande politico soldato ma nella lordi pirati dei caraibi anche alchimista lui praticamente inizia a studiare ma studia anche magia nera stregoneria e alla fine diventa un villain dagli impressionanti poteri chiamato lord ombra shadow lord quindi diventa in questo senso una nuova entità con poteri molto elevati il suo sogno è quello di raggiungere un po come quello che hanno tutti i pirati raggiungere l'immortalità non c'è un pirata che vuole morini e devono sempre tornare fantasmi maledetti spiriti inquieti vascelli che volano anche lui vuole essere immortale allora lui tra l'altro lavora a questo elisir che si chiama oro ombra fatto anche di oricalco e oro e però gli viene sottratto questo elisir questo elisir viene sottratto e viene distribuito sottratto per ordine di tiad alma e distribuito a tutti i pirati nobili quindi ecco che harry morgan inizia ad avere una grande se non solo sete di conquista ma anche sete di vendetta nei confronti dei suoi a questo punto occorre dirlo ex colleghi e allora inizia una vera e propria guerra contro i pirati peraltro in questo lui è appoggiato anche dalle potenze europee che vedono in morgan la possibilità di trovare un ammiraglio che li guidi per distruggere finalmente la pirateria quindi non è soltanto una guerra contro il mondo delle ombre ma anche proprio una guerra fra pirati e forze europee con morgan appunto alla testa morgan peraltro a questo esercito anche di oggetti che lui tramite la sua magia riesce ad animare e a far combattere per lui e alla fine arriviamo alla battaglia del giorno dell'ombra che è questo evento quasi profetizzato questo evento storico dove lord ombra appunto avrebbe dovuto fare lo scacco matto contro i suoi nemici e rimettere le mani con sull'oro o sull'oro ombra appunto su questo elisir si è pieno dei ombre qua mi sono un attimo incartato ma in realtà ovviamente voi direte chi è che pone i bastoni fra le ruote a henry morgan lord ombra ovviamente il nostro jack sparro tra l'altro c'è uno scambio fra i due dove morgan gli dice io sì sono henry morgan e tu sei il famoso jack sparro il grande jack sparro lui dice sì sono io a meno che non ti debba dei soldi in quel caso no non l'ho mai sentito nominare ecco quindi al diciamo che al termine della battaglia ovviamente vincono le forze del bene se si può dire del bene comunque le forze dei nostri beniamini pirati e ci viene spiegato nella lore che questa è la prima volta in cui jack sparro dice ricorderete questo giorno come quella volta in cui avete quasi catturato capitano jack sparro eccetera questa è la prima volta in cui lui usa questo tipo di espressione quindi un henry morgan alchimista un henry morgan che diventa un villain dai poteri arcani molto interessante sicuramente ma non per questo la vita del vero henry morgan che era comunque altrettanto sanguinario comunque altrettanto sagace e stratega non è certo meno affascinante quindi flavio direi possiamo proseguire con la storia vera sì 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 beh abbiamo lasciato morgan con una bella un bel bottino in saccoccia con una gran bella considerazione in pace insomma ero nazionale tu sei mai stato considerato ero nazionale no no ancora no ancora no e comunque facendo radio pirata non andiamo in quella direzione no però ecco nonostante questo grande successo morgan non aveva alcuna intenzione di darsi una calmata perché nel 1668 già lo ritroviamo in mare deciso ad attaccare cartagena però qualcosa va storto prima di procedere con l'assalto infatti morgan chiamò a raccolta i suoi capitani a bordo della nave ammiraglia e però mentre discutevano il piano d'azione abbiamo detto il morgan era un grande stratega insomma accadde un incidente la santa la santa barbara fece prese fuoco e la nave esplose morgan si salvò praticamente per miracolo visto che tutti gli altri capitani allo stesso tavolo invece ci restarono secchi tutti tranne lui oltre a 200 uomini dell'equipaggio quindi pezza l'ammiraglia e così tanti uomini oltre agli capitani morgan non aveva più le forze sufficienti a conquistare cartagena quindi ancora una volta decide di ripiegare su un altro obiettivo e l'idea gli viene da uno dei suoi uomini che gli dice ma lo sai vero che tempo fa un celebre bucaniere s'era fatto un giretto a maracaibo e a gibraltar in venezuela lasciando un gran bel ricordo di sé nel cuore dei pochi abitanti che continuavano ad avere un cuore nel petto dopo il suo passaggio sto parlando naturalmente del temibile olonese le cui gesta se così possiamo definirle sono state al centro di un nostro precedente episodio che tu danilo ancora ti sogni la notte comunque l'unico problema è che dopo la visita dell'olonese gli spagnoli lì avevano costruito una fortezza gigantesca che poteva difendere entrambe le città la fortezza era talmente imponente che sicuramente spaventava chiunque ci si avvicinava ma non era non aveva abbastanza personale per essere gestita cosa che succede spesso con ste fortificazioni enormi e questo permise a morgan di conquistarla e renderla inutilizzabile sabotando tutti i cannoni gli abitanti di maracaibo che erano sfortunati però non scemi nel frattempo se la diedero a gambe e morgan dovette rastrellare la città deserta e torturare ovviamente tutti quelli su cui metteva le mani per racimolare il bottino che sperava di ottenere dopodiché si diresse direttamente a gibraltar che dall'altro lato del del golfo che invece diede battaglia inutilmente forse visto che morgan comunque la conquistò molto velocemente e se la tenne pure per cinque settimane sempre anche qui dilettandosi nella tortura creativa per rastrellare tutti i preziosi che poteva dagli abitanti al momento poi di lasciare il golfo del venezuela morgan si ritrovò davanti la celebre frotta spagnola la armada de barlovento che avevamo anche citato nell'episodio su the graph se ti ricordi anche se questo su questi sui venti sono precedenti e quella flotta era una grossa potenza militare che la spagna aveva allestito proprio per combattere i buganieri morgan sapeva di non poter sconfiggere l'armada però non si fece intimidire gli spagnoli tentarono di parlamentare offriranno ai pirati la fuga in cambio del malloppo ma i pirati ovviamente non ne vollero sapere perché se sei pirata preferisci il malloppo alla vita insomma si sa no quindi decisero di attuare una strategia che noi conosciamo bene perché è una strategia piratesca che ci piace citare ovvero incendiare una nave e lanciarla contro l'ammiraglia dell'armada esatto fecero così insegna sì 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 il problema è che ecco quella volta che lo fece chers vane non gli riuscì di di colpire la nave dell'odiato woods rogers ma morgan invece riuscì a colpire l'ammiraglia dell'armada infatti la nave incendiata si agganciò all'ammiraglia spagnola la diede alle fiamme l'ammiraglio dovette fuggire e la seconda nave più potente della flotta dove dovete fare una manovra molto complessa per aggirare quella tempesta di fuoco che si era scatenata nel mare immagina due navi grosse incendiate che esplodono e via insomma c'è un bel casino i pirati approfittarono di questa manovra complicata che la nave dovette fare e la abbordarono e la catturarono pure cioè se la sera proprio se la rubarono la terza nave invece della flotta fu colpita e affondata insomma nonostante il vantaggio in termini di forze e di numeri l'armata di barlovento fu pesantemente sconfitta e anzi forni ulteriore bottino ai pirati di morgan che si presero la nave e tutto tutti i preziosi che queste tre navi trasportato ovviamente l'armata aveva altre navi ma nessuna così potente da poter reggere contro la flotta pirata ora grazie alla perizia poi alla manovra che sfruttava le maree diciamo riassumo un po la strategia di morgan per fuggire dal golfo effettivamente morgan e gli altri pirati riuscirono a scappare dal venezuela senza nemmeno un danno né dalla flotta spagnola che gli dava la caccia né dalle altre fortezze da cui l'ammiraglio dell'armada che era scappato a terra si era organizzato per sparare appunto con sole navi pirata insomma morgan nei suoi se ne tornano a port royal ricchi sfondati e senza nemmeno troppi problemi alla fine modiford del governatore della giamaica dovette ammonire non sai quelle ammunizioncine una ammunizione ufficiale a morgan perché andato leggermente oltre le possibilità offerte dalla lettera di marca e dovette anche devo carliela in realtà però di certo non spedì morgan nelle patrie galerie come avrebbe dovuto fare per legge perché grazie a questa azione estrema pure il governatore si era arricchito parecchio e senza neanche muoversi dal suo comodo palazzo però sai questi politici subito pronti a perdonare i criminali per i propri tornaconti no salvacondotti sanatorie scudi fiscali non sei contento che certe cose non succedono più oggi daniele forse secoli fa ma meno male meno male che la storia poi ci ha insegnato tanto sì 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 ma anche la finzione ci insegna tanto tu che ci racconti la finzione ci insegna tanto perché henry morgan è stato anche rappresentato nella cinematografia e questo va sicuramente citato e vanno citati anche gli interpreti che hanno appunto prestato il loro volto il loro corpo a uno dei più affascinanti quanto sanguinari da quanto tu ci stai raccontando predoni del mare che la storia abbia conosciuto inizio già con una perla cioè nel dirvi che nel corsaro nero di sollima del 67 che abbiamo citato perché cabir bedi abbiamo detto ha prestato un po il volto a tutti gli eroi salgariani anche al corsaro nero nella versione col corsaro nero di cabir bedi henry morgan è interpretato da angelo infanti e voi sapete quanto noi amiamo la commedia all'italiana fusa alla pirateria qui è proprio letteralmente la commedia all'italiana fusa alla pirateria io infatti mi aspetto che nel corsaro nero di sollima morgan dica optai per il mare me ne uscì di casa e mi imbarcai su una nave battente bandiera jolly roger così chissà magari appunto angelo infanti ci ha regalato questo tipo di interpretazione ma henry morgan è stato anche interpretato da un grande caratterista del cinema americano liard krieger nato nel 1913 è venuto a mancare nel 44 in un film chiamato il cigno nero che non c'entra nulla con la danza è un film del 1942 di henry king ispirato da un libro di raffael sabatini ecco mi tocca fare una piccola parentesi cioè raffael sabatini che ha scritto questo libro dove c'è henry morgan è uno scrittore italiano o meglio naturalizzato britannico di madre inglese però lui è nato a iesi e quindi diciamo era mezzo inglese e mezzo italiano parlava moltissime lingue però scriveva in inglese perché diceva tutte le storie migliori sono scritte in inglese lui aveva appunto questa teoria e diciamo è molto interessante perché abbiamo dopo aver parlato di salgari un altro autore italiano che si cimenta con la pirateria peraltro lui ha scritto una saga dedicato a questo personaggio chiamato captain blood l'ammiraglio di una flotta pirata e quindi abbiamo un altro argomento di cui parlare nelle prossime puntate te pareva come se non avessimo già altri di cui parlare tra l'altro proprio come salgari lui produceva tantissimo tant'è che negli anni 40 lui dovette rallentare una produttività che altrimenti sarebbe stata veramente ingente a causa della malattia altrimenti avrebbe scritto tantissimo quindi è un po come salgari ci conviene fare un giorno il sabatini month sperando non ci sia una comunità di sabatiniani che ci segue se no è la fine anche in questo il film dove abbiamo detto c'è liard crigar che interpreta harry morgan quindi questo questo cigno nero ha fra i personaggi anche tyron power grande attore e grande anche suocero di albano così questa è una nota così che non c'è in questo film tyron power peraltro nel ridoppiaggio anni 70 perché è un film che è stato poi ridoppiato successivamente è ridoppiato da romano malaspina che è voce ad esempio di jeremy brett in sherlock holmes oppure jeff goldblum nella mosca ha lavorato tra l'altro questo doppiatore anche nel ritorno di sandokan quindi vedi thorne salgari anche qui comunque tyron interpreta perché ci stiamo focalizzando su tyron power perché interpreta il braccio destro di harry morgan un pirata di nome warring tutto il film verte su una cosa in realtà molto interessante e che anche è raro vedere in un'opera d'avventura d'azione di cappa di spada ed amore cioè una sorta di scontro dialettico fra due visioni della stessa cosa quindi una sorta di politica perché da un lato ci sono i pirati che vogliono vivere in maniera indomita e indipendente continuare a fare i predoni e dall'altro henry morgan diventato ormai sir governatore civilizzato e che prova a spiegare agli altri che il futuro della pirateria è non fare più i pirati questa è una cosa molto interessante e in tutto questo di mezzo c'è questo braccio destro warring che la sua storia d'amore e quindi diciamo fanno un po da trama da filo principale della trama inizia tutto con questo warring che viene catturato dagli spagnoli e torturato viene detto che lui è stato a fianco di morgan in tutte le azioni di saccheggio che morgan ha fatto nell'assalto a panama nei saccheggi di maracaibo e warring dice ero anche a granada a uccidere gli spagnoli cioè ci tiene al suo curriculum della sera non dimentichiamo le cose che ho fatto viene salvato dalla tortura inizio film si fa portare dai pirati che lo hanno salvato una bottiglia di vino quindi proprio questa la cosa il cinema come rappresenta comunque il pirata il tra l'altro il collega che gli porta il vino dice non c'è niente di meglio della tortura per far venire sete questo è un po il pirata cinematografico classico caro flavio che che poi era anche molto simile al pirata vero secondo me anche qui come in tutte le opere dove ci sono dei buccanieri di mezzo come tu dicevi prima c'è un forte odio antispagnolo quindi sono questi eroi che hanno nemica la spagna nemici gli spagnoli ho sviluppato anche un forte odio antispagnolo studiando la storia di nassau per una delle prossime puntate che faremo perché tutte le date riguardano qualcosa che hanno fatto gli spagnoli a nassau e non finisco più di studiare perché gli spagnoli quindi anche io mi sentivo un po buccanieri nel dire di spagnoli comunque comunque cosa accade allora la cosa appunto interessante che dicevo è che da un lato abbiamo henry morgan ben vestito con la parrucca impomatato che è diventato governatore dall'altro i pirati guidato da lich guidati da lich che non si sa bene se è un villan oppure un ultimo degli idealisti no i pirati odiano morgan perché dicono che sia un traditore che ha tradito la causa e che forse è scampato alla forca magari facendoli un formatore tradendo altri pirati eccetera dall'altro c'è morgan che prova a spiegare guardate che quello che noi abbiamo fatto nelle colonie per arricchirci era l'inizio adesso il futuro è civilizzarci proliferare avere una vita normale avere delle regole è molto interessante cioè c'è un mix fra una repubblica dei pirati il vero henry morgan politico è una cosa in questo senso molto interessante ripeto anche raro tra l'altro è raro da trovare nei film d'avventura tra l'altro morgan è un uomo a metà perché i pirati non lo rispettano più ma ovviamente non lo rispettano nemmeno le persone dell'aristocrazia o i funzionari della corona inglese perché infatti ad esempio lui si incontra a un certo punto con un ufficiale della regina che è un po disgustato da morgan morgan infatti dice non è facile vedere un uomo che volevate impiccare come vostro superiore quindi veramente un uomo a metà poi ecco morgan altre qualche altra piccola curiosità morgan in questo film era prima doppiato da carlo romano poi ho detto c'è stato il ridoppiaggio negli anni 70 e viene ridoppiato da vittorio di prima quindi apollo creed quindi sentirete un pirata con la voce di apollo creed tyron power a un certo punto prova a riportare il suo capitano a ricordare i fasti del passato e gli dice c'è sempre maracaibo che è un po la versione piratesca dice sempre parigi di casablanca c'è sempre questo ricordo dei saccheggi e delle uccisioni che abbiamo fatto la cosa peculiare di liard crigar di questo interprete è un org è un morgan veramente imponente perché era un attore di grossa stazza ma lo dico perché funzionale poi alla nota biografica che andremo a fare perché praticamente crigar per passare dai ruoli di caratterista ai ruoli da protagonista tentò di perdere peso tentò di non essere più l'attore riconoscibile per la sua stazza la sua imponenza eccetera e si sottopose a una dieta dove la riduzione di peso doveva avvenire anche tramite l'assunzione di anfetamine e fece questa dieta dove perse 40 chili in pochissimo tempo che però gli fu anche fatale e quindi lui morì dopo un intervento chirurgico allo stomaco dopo un attacco di cuore in seguito a questo intervento all'età di 31 anni peraltro quindi insomma una storia veramente in questo senso drammatica e infine ti cito un altro interprete sempre anche questo nel filone delle curiosità Henry Morgan è stato interpretato anche da Thorin Thatcher nel film il pirata barba nera del 1952 di Raoul Walsh qual è la cosa interessante vi ricorderete inizio della season 3 noi dicemmo che c'eravamo sbagliati infatti abbiamo smesso poi con i nostri tormentoni perché noi dicevamo sempre fate un film su Maynard fate un film su Maynard c'è un film dove Maynard è protagonista ed eroe che è proprio questo pirata barba nera del 52 dove c'è sia barba nera che Henry Morgan che in realtà non dovrebbero assolutamente essere coevi in questo senso quindi però lì invece c'è Henry Morgan governatore barba nera pirata e hanno un po' mescolato realtà e finzione ma ecco che c'è però c'è Maynard protagonista che è quello che noi volevamo vedere beh sì barba nera e morgan sono figure che molto spesso sono sovrapponibili un po' come immaginario se pirata di stazza grossa imponente fine stratega ci hanno tante caratteristiche comuni per tornare invece alla storia vera arriviamo alla fine del 1660 che a 1669 gli spagnoli prendono una decisione visto che sti buganieri sti pirati ci stanno facendo ce ne fanno decotte di crude come noi poveri poveri vittime che non facciamo altro che andare a conquistare il sud america distruggendo tutte le civiltà che lo abitano decidono di dare pane al pane ovvero si mettono a fare i pirati pure loro decidono di istituire delle flotte corsare e di attaccare ai bastimenti e le colonie inglesi ora questa cosa si concretizza nel 1670 con la prima azione dei pirati spagnoli che colpirono alcune navi di passaggio inglesi ora tu mi dirai ma visto che noi facciamo radio pirata com'è che io non è che ho sentito troppo parlare di stipulati spagnoli e il motivo è proprio di morgan perché il governatore della giamaica che aveva tolto la lettera di corsa a morgan gliela rivede subito una nuova anche più ampio margine di manovra e lo spedì subito a combattere contro sti pirati spagnoli a difesa della giamaica a quel punto però il nostro bucaniere era diventato talmente famoso dopo le sue ultime imprese che nel giro di pochi mesi radunò una flotta immensa qualcosa di mai visto prima da quelle parti in quel momento perché lui aveva più di 30 navi tra inglesi e francesi al seguito e aveva un bel mix di corsari e bucanieri e come puoi immaginare a morgan non sembrava vero di avere carta bianca per una volta e non dovessi inventare congiure strane per colpire pesante e subito si diresse verso panama conquistò l'isoletta di old providence che era una isola non particolarmente ricca ma aveva una posizione strategica se la cerchiamo nelle mappe vediamo che praticamente da lì puoi tenere d'occhio tutta la costa di panama e quindi c'è old providence new providence anche la vecchia sì 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 esatto anche la posizione diversa perché old providence è a largo di panama new providence nelle bahamas quindi si da lì parte con la sua flotta gigantesca contro la costa di panama le forze pirata nel gennaio del 1671 sbarcano sulla terraferma e si diregono e si dirigono attraverso la giungla a panama city che in realtà oggi si chiama old panama city o panama la vecchia come dicono in spagnolo credo nel senso che la capitale a un certo punto fu spostata da questa città un'altra che new panama city e questo fu fatto dopo il passaggio di morgan e questo magari sono un po come uno spoiler però credo che a questo punto abbiamo imparato che i bucanieri le città spagnole non sono mai andati troppo d'accordo dei fatti che ovviamente la città era importante e voglio dire la capitale di panama e quindi era anche pesantemente difesa tra fanti e cavalieri c'erano circa 1600 soldati spagnoli in città anche se bisogna dire che la maggior parte di questi non erano d'esperienza nel conflitto contro i bucanieri 4 500 uomini di questo esercito persero la vita con su appena 15 pirati quindi la disparità di numeri non diciamo non non sembrava intimidire troppo i pirati come abbiamo detto anche altre volte in questi conflitti tra esercito spagnolo e bucanieri sembra strano sulla carta che gli spagnoli perdessero così spesso ma in realtà un po per le strategie innovative un po perché i pirati effettivamente i bucanieri non c'erano paura di niente se inventavano di tutti i colori invece per terrorizzare gli altri effettivamente se tu pensi 4 500 vittime con su 15 la guerra è stata molto dispari insomma comunque il governatore della città era pronto a dare alle fiamme panama in caso di sconfitta e in effetti i suoi ufficiali riuscirono a far saltare in aria vari balivi di polvere da sparo che erano stati posizionati strategicamente in giro per la città ne è emersi un esplosione un rogo che durò per circa due giorni e questo è il motivo per cui old panama city e world nel senso che è stato proprio si è stata proprio disintegrata se andiamo lì oggi a fare una live di radio pirata la faremo dalle rovine che le stesse rovine che henry morgan i suoi pirati rastrellarono per racimolare il bottino che riuscivano a trovare ovviamente torturando chiunque riuscivano a pizzicare comunque il riuscirono a radunare un bottino molto poco soddisfacente non per l'entità del del malloppo in sé ma il fatto che comunque le forze spiegate erano tantissime e non scordiamoci che i pirati guadagnavano una fetta del bottino depredato quindi bottino poteva anche essere tanto ma loro erano tantissimi quindi se lo dovranno dividere e quindi ce n'era poco per ciascuno però anche se l'azione non fu particolarmente fortunata dal punto di vista economico sicuramente ancor meno fortunata per gli abitanti ancora una volta questa povera città l'azione fu molto importante per il prestigio invece di henry morgan che fu accolto in giamaica al suo ritorno con tutti gli onori riservati a un eroe di guerra guerra che però era ufficialmente già finita perché c'era stato il trattato di madrid che segnava la fine delle osterità nel nuovo mondo tra inghilterra e spagna e questo trattato era stato firmato prima della distruzione di panama city quindi questa azione bellica rappresentava un incidente diplomatico di una certa portata pensa che la spagna era pronta a dichiarare guerra nuovamente all'inghilterra appena un annetto dopo dalla firma del trattato insomma sì per per evitare tutto questo il governatore della giamaica del modifold questo qui che ha sempre spalleggiato morgan fu arrestato e rimosso dall'incarico e spedito in inghilterra tra l'altro fu anche rinchiuso per un periodo nella torre di londra mentre morgan anche lui fu arrestato e fatto tornare in patria ma lì lui venne accolto con talmente tanti onori che pensa che si diceva che morgan fosse l'uomo sulle cui spalle si era poggiato il mantello di francis drake quindi pensa un po che tipo ma che tipo di eroismo si a quale tipo di eroismo era stato assunto insomma quindi morgan se n'è tornato arrestato in inghilterra ma non proprio da gare 8 ecco visto che gli conferirono tra l'altro anche in cavalierato e appena furono le acque si furono calmate anche modifold venne rilasciato e morgan fu spedito nuovamente in giamaica stavolta a fare il vice governatore e il comandante militare in capo questo già a partire dal 1675 e qui emerge un po inizia a mostrarsi quel personaggio un po duale che è descritto anche nella fiction no perché morgan era sì un pirata però era anche un politico insomma anche se era un pirata sui generis perché ci aveva un sacco di agganci in politica e comunque riusciva sempre a intortarsi i suoi uomini per raggirarli e ricavarne il meglio ma era anche un politico sui generis perché comunque il governatore che non era più modifold metano altro se lamentava in continuazione proprio ci sono delle lettere scritte che morgan passasse tutto il suo tempo a ubriacarsi a giocare d'azzardo nelle taverne e a farsela con gli altri pirati invece di combatterli e la la cosa esplose anche un po perché il governatore arrivò a denunciarlo proprio il problema è che risultato questa denuncia è che fu rimosso il governatore mentre morgan è stato libero di fare quello che voleva in varie occasioni divenne anche lui governatore proprio morgan anche se pro tempore però per diverse occasioni questo periodo tra l'altro lui guidò tre campagne militari contro i cimarroni che erano queste comunità di schiavi che erano che fuggivano dalle piantagioni e che appunto popolavano degli affratti nascosti della giamaica e delle e di haiti e parte anche di cuba comunque ecco lui guidò tre campagne militari contro di loro ma i suoi attacchi anche se ebbero successo non riuscirono mai a sconfiggerli del tutto e penso anche che bisognerà dedicare una bella puntata a sto fenomeno dei cimarroni che è molto interessante estremamente legato al mondo dei pirati sia quando i pirati facevano anche gli schiavisti come appunto morgan sia quando i pirati invece liberavano gli schiavi quindi appare anche in black sales poi una comunità e quindi sì sicuramente è vero sì interessante molto molto tornando a morgan comunque il suo idilio politico durò fino al 1684 perché il nostro pirata sarà fatto parecchi nemici tra conti aristocratici e politici vari e finì per ritrovarsi nei guai e la pubblicazione di quel famoso libro di eschimeling non non aiutò insomma ecco la ruota tornò a girare in suo favore qualche anno dopo perché fu messo come governatore della giamaica un tale christopher monk che era proprio amico suo e che se lo prese come consigliere anche se non ufficiale nel 1688 questo monk provo anche a reintegrarlo proprio ufficialmente nel consiglio della colonia però il nostro vecchio pirata che poi vecchio si fa perdite perché c'era 53 anni era già troppo malato per dedicarsi a qualsiasi attività di fatti morgan aveva sviluppato nel corso degli anni una piccola abitudine che era l'alcolismo si diceva che lui iniziasse a bere da quando si svegliava si svegliava la mattina fino a quando andava a dormire un meglio fino a quando collassata la sera e c'è anche un referto medico che indica che probabilmente soffrisse dei cerosi epatica in questi ultimi anni non è che ci stupisce dopo 25 aprile del 1688 henry morgan muore e visto che era un pirata crudele e un torturatore seriale riceve un funerale di stato viene emessa amnistia in modo in modo che tutti i pirati in galera potessero uscire andare a rendere omaggio al loro condottiero preferito se fa ride per storia vera poi dopo il funerale lui venne sepolto nel cimitero principale di port royal morgan che non era stato un uomo di terra in vita non lo fu neanche nella morte evidentemente ci aveva il mare nel destino perché quattro anni dopo la sua morte port royal fu distrutta da un terremoto che portò in fondo al mare due terzi della città incluso il cimitero e la tomba di morgan che giace ancora oggi nel profondo degli abissi in un luogo che non è ancora mai stato individuato molto affascinante fravio qua io io avevo un finale tamarro per la questa puntata lo dirò però questo questo finale con il corpo di morgan che giace in fondo al mare era molto poetico e e te lo rovinerò ovviamente che deve fare tra l'altro poi in realtà sappiamo bene che in realtà vedi è sparito anche il cadavere perché perché lui è andato a fare l'alchimista sapevoli che torna tutto per questo è sparito il corpo nulla vi diciamo che se volete approfondire la storia di morgan fra le altre cose c'è un romanzo di steinbeck che non l'avrei mai detto ma invece oltre a furore oltre a uomini e topi romanzi che ho amato ha scritto anche un libro proprio su morgan quasi biografico la santa rossa che lo trasformerò nella mia lettura estiva uno steinbeck un po acerbo da quello che ho visto dai commenti dalle recensioni però sicuramente molto interessante come lettura e magari ne parleremo in futuro qual è il finale tamarro beh che se volete godervi veramente un assaggio di una giornata alla morgan potete mettere se stavo dicendo il cd perché sono boomer potete potete ascoltarvi l'album degli alestorm ovviamente la power metal band che abbiamo citato in altre occasioni qua e là poi sulla musica piratesca anche qui servirà una puntata apposta certo che servirà gli alestorm hanno creato captain morgan revenge che è un loro album del 2008 e mentre siete lì che vi sparate la musica metal piratesca nelle orecchie vi godete un buon bicchiere di room in room del captain morgan che è un realmente esistente famoso per la sua campagna pubblicitaria a parte per le cosiddette vabbè le citiamo il marketing era anche quello le morganette cioè c'erano queste sorte di di veline atte a rappresentare il brand ma più che altro per l'illustrazione fighissima di morgan disegnata dall'illustratore pluripremiato don maiz che fa quindi la etichetta a questo room e quindi avendo in mente i nostri racconti di saccheggi avventure gloriose fino a un certo punto dal punto di vista etico ascoltandovi il metal piratesco su morgan nelle orecchie e bevendo il room di morgan potete diciamo godervi a pieno questo lo spirito di questo personaggio che giace in fondo al mare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti